Sabato 19 maggio alle ore 18 per la giornata internazionale dei musei 2018 che propone una riflessione sul tema musei iperconnessi, nuovi approcci, nuovi utenti a cura di Federica D'Antoni e Alberto Antonio Foresta si terrà l'incontro lezione sull'uso dei social, la comunicazione digitale e i beni culturali a conclusione del quale tutti i partecipanti potranno esercitarsi nelle sale del museo fotografando e condividendo in tempo reale sui social network e quanto fa sapere il vicario generale della diocesi di Caltanissetta, Monsignor Giuseppe Laplaca